Musica Eh, però qua poteva esserci anche tipo qualcosa scelta multipla, no? Non so come ho fatto ad avere così tanto culo. Veloce Tachycardia is coming Non c'è niente qui Ho avuto un culo pazzesco, eh? Perché ho avuto un culo pazzesco? Santo cielo, no! A che lato vai? Un'altra vittima! Dobbiamo fare qualcosa! Così si fa Non so con quale bucio di culo l'ho fatto Però l'ho fatto Però l'ho fatto, ragazzi Quello è l'importante Qua non possono venire a prendermi, per forza Vai Ti prendo io invece Area sicura? Area sicurissima Con kit medico e munizione pistola Vabbè Non si butta via Maledetti manichini che indudono È un problema grosso Lui che è lì È un problema grossissimo Perché è veramente nel mezzo di tutto Ma di tutto, eh? Merda Non ho neanche oggetti da lanciare L'intrusa è qui Dove è l'intrusa? Oddio Da dove sono passati? È dal tuo buco del culo E dai Dovrebbero essere veramente finiti No Scherzo Sono Uno Due Tre I munizioni fucile sono buone E ora sono due Affrontabili Dai Tre Ops Andata male Vieni qui Vieni qui Vieni qui Cos'è? Vado a controllare Eccolo qui Vaffanculo Vaffanculo Va bene Va bene E ora E ora È un po' Un problema Chi è che mi dovrebbe vedere? Che ansia Dove ammazzare Dove ammazzare quello là Lo sapevo Vaffanculo Dove ammazzare Cosa? Era lei? C'è sei? Parta... Parta me! Parta me! Ok. Ha funzionato. Quello l'ho deciso io se devo uscire vivo da qui o no, capito? E zitto. Non male avevo aumentato la stabilità dell'arco. Buono. È lui che mi stava per vedere, wow. Che paura che mi fai zì. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Bravo, tu vai di là. Bravo. Ci siamo intesi. Altro soldato a terra! Qualcuno vuole ammazzarci! Tutti. Che zitta. E giù di nuovo. No ragazzi, sono un fottio. Spara, spara. In testa. Zero e pietà. Cazzo. Vieni qui. L'altro è giù. L'altro è giù. E muori. Muori, 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 muori. Finito il bonus frecce. Ancora due. Madonna, ragazzi. Una bottiglia che comunque è utile. Adesso è molto utile. Ma non era ironico, eh. Era vero quello che ho detto. Cioè, lo pensavo veramente. Uno è là. L'altro è là giù. Vabbè, me la posso dare a cambio allora. E sali di qui, Ellie. E sali da qui. E sali da qui. E sali da qui. Che roba. L'ho sentito, sono sicuro. L'ho andato a controllare. Che diavolo succede? Vieni, 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 vieni. Merda. Testa. Potevo andarmene, no. Potevo andarmene. Va bene. Va bene così. Da, vaffanculo, proprio. L2 retromarcia. Madonna, è immanovrabile sta roba. È veramente immanovrabile. Ma ce la facciamo andare bene. Ah. Almeno si guadagna un po' di terreno. Si taglia un po' di strada. Ok. Nessuno mi segue. Ma ne abbiamo miraggiato un cazzo. Dov'è? Aspetta, c'è di altro da fare. Ok, ok, ok. Adesso ha senso. Potevo andarmene. Un po' di salute. Grazie. Ehm, tutto molto bello, perché è tutto molto bello, però. Sto accusando problemi. Ma poi certo, la mappa me la potresti anche far vedere, eh. Non è che si può passare sotto il bus? Aspetta che non mi ci oriento nulla. Ok, è palese che non sia di qui. Aspettate, ma non è che ce l'ha sfondare la barriera, forse? No. Brava. Ok, era di qui. Vabbè, bellissimo. Ok, niente scherzi. Niente scherzi ti garberebbe, eh. Ti garberebbe niente scherzi. Ma tanto vedrai che sooner o later qualcosa succede. Adesso si scende e sa fama a piedi. Non è che l'acqua tipo elettrica, cose così, vero? Ecco giù. Manca sempre un fottio, eh. Ma manca tanto. Bene, adesso. Ok, questo potrebbe tornare utile per... Ok, fuori non lo può portare. Non è che magari si deve fare così? Ok. No. Comunque io credo ci sia da atterrare laggiù. Per forza. Ah no. Ah no. Ah no. Ok. Qui dove vengono? Ok. 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 Combinazione. Jules. Dove sarà sta combinazione? Ok, mi sa che devo andarmi a rifare un altro giro di cognizione su. C'è un bigliettino qua per terra. Magari c'è il codice sopra. 70, 12, 64. Lo sapevo. Allora, 70. 12, 64. 64. 3 molotov e 3 kit medici. Incredibile. Nella vita non ne avevamo un serve del nastro. Uffa. Ci rimane su, vero? Va c'è più presto, non si sa mai. Che se abbia richiude. Vai, brava. Ci siamo. Ci siamo un parolone. Diciamo che manca meno. Lo sapevo. Madonna, mi fa pigliare dei colpi, Ellie. Ho detto che è un jumpscare continuo sto gioco. È un jumpscare continuo, ragazzi. Perché. Da momento all'altro ti può succedere qualsiasi tipo di cosa. Io me ne vado dritto, eh. Non è che sto a esplorare di qui, di là. Io me ne vado dritto al punto. Anche se... Cazzo. Sembra che... Eeeh... Più viaggiamo... Più sembra allontanarsi. Mi sa che qua siamo alla fine del nostro viaggio, sapete? Già. Serafiti. Di nuovo. Molta calma. 20 di energia. Salta. Forza, salta. Non salta, uffa. Uffa. Una frecce, cazzo. 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 C'è sta stronza che fa il giro del tavolo va eliminata tipo prima di subito. Sapevo che mi vedevano. Sapevo. Sapevo. Prima che muoia. Prima che muoia. Godo. Si ragiona. Si ragiona meno adesso. Ok. Revolver. Revolver. In testa. Perfetto. Più nessuno? No. Per fortuna. Che a far serio che è sto gioco ragazzi. Una buona freccia. No una molotov. Cazzo poteva essere utilissima. Come direbbero qua. Buona come il pane. Perfetto. 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 con la barca. E' eh. Sono stato un nabbissimo. Sono stato un nabbissimo. Perché avrei potuto vederlo tranquillamente quello sbocco lì. Invece sono andato solo a perdere vita Munizioni E un cazzo perché Tipo non ci ho guadagnato niente In questa sparatoria qui Adesso mancano solo gli infetti Che ne so Rat King O clicker Che ne so Blotter Ci mancano solo loro Poi li abbiamo fatti tutti ragazzi Però sto percorso da fare sull'acqua è bellissimo Si sfonda vero? Yes si sfonda Sarebbe troppo facile Lo dici te è vero Che sarebbe troppo facile Intanto c'è gente qua Per ora no Certo io credo che i suoni del temporale Li abbiano presi da un temporale vero Perché sono fatti troppo bene Cioè questi FX del temporale Sono qualcosa di Perfetto Prende Oltre la perfezione 10 integratori Straccio Questo fa una freccia No Non L'astro non ho deciso che proprio Prima ce n'era in abbondanza Adesso che lo sto usando Praticamente quasi sistematicamente E me lo fanno mancare 54 integratori Respiro Palese Pezzi 20 Uh A Cristo Macete Mixtape Un pezzo Ok prima magari Di uscire di qui Modifichiamo l'arma Ma non credo di avere sufficienti pezzi Sapete Io credo sia proprio così Adesso vado a controllare ma 99 su 100 48 pezzi infatti Cazzo per due pezzi Che sfiga Che sfiga assoluta Non è che li posso andare a mendicare Da qualche parte No Munizioni revolver Che Sono sempre comode Eh Ti amo Oh cazzo Un blotter Maledetti blu Aspettavo di incontrarvi Ancassiamo Dove sei brutta merda Tiro addosso tutto quello che ho giuro Madonna muori brutto bastardo Non muore Anche gli infetti Bruttissimo Ok ma ci si fa 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 Ho tre molotov da usare Merda era lì La seconda Va addosso al blotter Tieni qui Muori Malissimo anche No Non è morto Adesso si Ragazzi sto sudando Ok caduto Yes Nastro Tanto per le frecce Ho fatto fuori tutte le munizioni che avevo Mi è rimasto solo undici di Di coso Di revolver che non so un po' che è però Che cazzo E il carretto Non si può più Sa Dov'è il malcapitato Dov'è caduto Magari portava con sé qualcosa Sti rumori molesti non mi piacciono Meglio andare via Sapete Collezionabile Un altro codice Jules Niente Su Giulio Ci sta perseguitando a destra e a sinistra Un pezzo Uno Ma ormai dietro non ci si può tornare L'abbiamo in quel posto Di qua Hai barre che mi offri Ok queste cose le prendo molto volentieri Tanto una molotov è da fare sicuro Anche un'altra Qua ovviamente manca ancora il nastro Evidentemente è diventato il platino di The Last of Us Finalmente Apriamoci la retta via Bello sul barchino del VLF Che swag è lì che sei La città infracicata Atto 4 capitolo 2 La città infracicata Madonna che onde Proprio l'hanno distrutta sta città Io penso che se scendo dalla barca muoio Per forza Se no non ha senso Vaffanculo Aiale Devi farcela Devi farcela Si mi stanno flashando i led A caso Oh Dio